Ben trovati in aggiornamento meteo con la tendenza media e lunga scadenza, scopriamo il tempo nel periodo tra il 10 e il 14 marzo, quindi in prossimità di metà mese. Sarà un avvio di marzo, vi preannuncio già molto molto dinamico, anche nei prossimi giorni lo avvertiremo con veloci perturbazioni in arrivo da ovest verso est, quindi insomma il blocco gelido siberiano piano piano arretra nuovamente verso la Russia e favorisce l'arrivo di correnti ben più umiti di Libeccio e di Scirocco sui nostri mari. Temperature che appunto saranno un po' in alta lena, dei periodi un po' più freddi, ma attenzione ci saranno anche dei momentani rinforzi di venti dal nord Africa appunto tra il 10 e il 13 marzo verso il centro-sud Italia con temperature oltre le medie del periodo, poi graduale diminuzione per nuovi fronti in arrivo da ovest e quindi insomma le temperature saranno un po' un sali e scendi e acquazioni che non mancheranno soprattutto parte tirrenica e regioni settentrionali. Dettagli più precisi sull'app di Trevi Meteo.